Grande partecipazione alla passeggiata che si è svolta nel centro storico di Modica. Oltre gli 80 camminatori si sono trovati ieri sera davanti alla scalinata di San Pietro, organizzata dall'associazione Motica in collaborazione con le istruttrici di fitness Laura Melilli e Arianna Melilli. L'evento ha riscosso un notevole successo con partecipanti provenienti da tutta la provincia. Vedo che l'iniziativa, essendo dentro di me, è una bella cosa, è una cosa che proporrei a tutti, a parte agli sportivi, perché comunque mette gioia, mette allegria. Abbiamo iniziato per scherzo 10 persone ed è una bella cosa vedere stasera circa 90 persone che partecipano entusiaste a questo evento natalizio che abbiamo fatto per scambiarci gli auguri di Natale. Gli organizzatori hanno voluto promuovere la conoscenza del centro storico più importante e caratteristico della città. La camminata culturale è stata l'occasione per trascorrere in compagnia una serata all'aria aperta, lontano dal traffico quotidiano che ormai ha assunto ritmi frenetici.